Salve a tutti ragazzi da Softair Gun, Guns & Music Sorrento. Siamo qui a proporvi un elicotterino, una novità, un momento in Italia, si tratta di un tre canali con cloche da tavolo, con cockpit da tavolo e a disposizione una funzione titolatrice che compare durante il volo dell'elicottero. Tutto corredato da un software che si può gestire dal computer tramite USB all'elicottero e mettere simboli, caratteri e cose varie come vedete dal filmato. La console di comando è dotata di audio, quindi simulazione delle pale dell'elicottero, col tasto fuoco si sente anche una mitragliatrice sparare, insomma è un oggetto simpatico, diciamo un po' al di fuori dell'ordinario quello che è l'elicotterino a tre canali. Accensione, spegnimento, luci stesso dalla unità di comando a terra, cos'altro? Niente, tutto qui, guardatevi il video. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.